ok c'è una testa di cinghiale perché non mi muovo? vediamo come ha sistemato la zattera il nostro buon cugino panzer mamma mia stava andando sott'acqua ah bella adesso si che si respira si si è fatto proprio bene ok ok dobbiamo soltanto spostare queste cose di mezzo però vabbè adesso posso non stare perché c'è spazio libero quindi adesso che cosa che dovevamo fare fare il corso per andare la diffamilata ho capito quindi dobbiamo fare ci serve un sacco di legna perché cazzo io ce ne ho otto e io ce ne ho sei quindi dobbiamo raccogliere un sacco di legna dai sì ma questo bisognava fare con la legna devi fare il corso dell'aspetto eh si devo fare il corso per diciamo una struttura per salire tipo al secondo piano e lì tu non lo possiamo fare la casa perché non ce l'abbiamo sbloccato impossibile ma si ma tu il come cacchio si chiama il rame l'hai messo no aspetta è perché vi sa che dobbiamo fare a vedi eh dobbiamo far prima la scheda la scheda si sblocca con il radar no vedi che lei trovi nelle casse tipo i progetti no no vedi che il rame non è stato ancora scoperto quindi i lingotti di rame adesso lo vado a mettere lì allora dove hai messo i lingotti ma però mi piace come sistemato è bello ordinato no vado a lunga della no è lo sapevo si è caduto da dove sta l'azzata non ti conviene venire scuola perché soltanto ammazza adesso abbiamo sbloccato la ricevitore qui perché serviva solo il ramo ovunque ci 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 sono le tartarughe marine ma bellissime ma allora da ecco l'aggiornamento vale tutto il tempo che siamo stati ad aspettarlo no vedi che non c'è l'alcox guarda oh sì l'ho sbloccato io e perché io non lo vedo oh vai al chiodo vai e batteria se la batteria schede elettronica dobbiamo fare la scheda elettronica e aspetta non lo faccio che mi serve il tralcio appiccicoso lo capito eccolo ma no questa è la vabbè la faccio no e la plastica ne serve un altro allora vai un altro che ti ho messo si deve stare a ricordare che deve mettere le cose nel nel cacchio di banco da lavoro ora ecco perché uno non si ricorda che c'è alle corde vediamo c'ho 6 foglie e danno che sto a far i retini se non lo finiamo mai un giro di tonno allora come finisce di sciogliere il tralcio appiccicoso allora qui vediamo possiamo cucinare qualcosa si lo squalo squalo con le rap si con le barbabieto ma io c'ho lo squalo da mangiare c'è un'isola di fronte dove sto io allora facciamo una cosa si l'ho vista quella piccolina si e allora ma andiamo lì verso lì così nel frattempo che costruisco il ricevitore ci freghiamo un altro po di legno eccolo scheda elettronica ma che palle che la dobbiamo stare a sprecare che palle sto fatto non mi piace antena ricevitore è quell'altro coso che cretino lo scorso sono passato dalla bocca non ho fatto niente allora dove sta il ah eccolo si quelle cose le prendiamo allora io mi ho fatto che se vuoi altre cose stanno qui vabbè due foglie cioè proprio lo schifo c'è adesso che ci servono niente allora fa per qualche rotto anche da fare gli altri chiudi non so che cazzo ti devo stare guardando tutti sti bauli che non gli puoi scrivere allora fa ciasse e sto rambi palle ecco perché è meglio che ti fai la trabottiglia allora stiamo andando no no non ci stiamo avvicinando di un cazzo che ho lo squalo no stronzo mamma mia questa mantieni che ti mantengo ve ne avete mamma mia allora dobbiamo spostare la rotta porca miseria stiamo andando? no ma non ce la facciamo a prenderla perché stiamo andando controcorrente io direi di seguire la corrente che andiamo più veloci se no ci mettiamo troppo allora intanto io inizio a vedere dove la possiamo mettere allora con i chiodi facciamo no ma un po' di rotta che ci abbiamo e il chiodo allora dove la possiamo mettere la mettiamo questo spazio è come tenere la gamba perché lo sull'uccido di nuovo eeeh vedi che sta riflando sto io la zatterina ah non cerchi di andare ok con la forza ce la facciamo a prenderla dobbiamo andare in obliquo si andiamo stiamo andando verso di quella stiamo andando un pochettino più lenti perché comunque stiamo un po' eh ci stiamo avvicinando allora ci vai tu? che io intanto costruisco costruisco qui il tetto io ci vado io ci vado già tanto se mi lo scollo se tu sto? ok ci siamo proprio avvicinati dai metto l'ancora o ce la fai subito oh ce la fai eh che cazzo ho trovato sta coa che dico il gunt si le riporti vieni vieni strongelo non vieni eh è sera che non ti vede un cacchio e noi non potevamo prendere gli attrezzi per questa di questa zatter che sta cadendo eh e metterceli su questa zatter porca miseria c'è che è poca altra vediamo se questa ce la riusciamo a fare dove? aspetta guarda verso dove aspetta qui ah è quello di prima ah è quello di prima io vado a prendere due bauli anche se ti allontano stoppati fermati ah il che la fai ah mi che sono tre bauli non me li faccio scampare spera anche non ci sono solo cozze e si è fermato tutta la cosa si si sto fermo però ci vuole la legna eh quindi fai presto ce l'ho l'alene ucciso la squala brava mamma mia quattordicesimo squala che cresino che può stare un altro colpo ma è stupido una testa di cazzo ma cazzo ma il mare è tanto grande viene sempre da noi sto stronzo siamo sotto l'azza ci seguo e saranno i cugini i cugini di campagna io vado da noi a prendo tutte queste cose vai vai che io sciolgo le cose il ram ma quando il ram è stato a sciogliere allora e poi non possiamo hai apriso sedia ma rosa ma adesso possiamo creare le rose incredibile con i fiori oggetti utili non esistono ad avere il vediamo adesso le prossime cose ah la cozza noi abbiamo le cozze le cose lì mettiamo ora quello che sto vedendo gli uccelli secondo me gli uccelli lo mettiamo non ci può arrivare non ci può arrivare anche il marziano bravo bravo eh aspetta che ma è che c'è un altro riettino pronto perché se lo riempi tutto sto con i cugli però eh va per fare un po' di grado l'alto l'alto ok ah qua ho finito qua da un po' di che ti serve la legna sì sì dammi la legna che devo costruire ancora i tettucci ok tieni la spalte 10 comunque noi potremmo pure senza mettere la cosa la il nido mettiamo a piantare qualche cosa tanto io ho l'arco con l'arco muore subito ok allora fammi andare a fare il tetto qui ok ok eh cioè solo per queste cagate di sei cose è già finita la legna tu pensa un po' ma qua tardi ci si vuole uccisi allora io adesso metto le cose a piantare così appena arrivano quei cacchi di gabbiani sono morti e c'era l'arco si ce l'ho dove cazzo l'ho messo il bolt con le cose un bolt ce l'ho io oh metterli qui dentro nel primo contenitore c'è questo allucardini bolt ah eccolo un altro bolt bolt aspetta il contenitore dove stava il vetro questo hai notato ok vai altro rame finito di sciogliere allora eh ora non arriva più niente ma siamo partiti o stiamo fermi? no stiamo andando contro corrente solo che la corrente è ehm leggerissima quindi sembra che siamo fermi no vedi che stiamo fermi e l'ancora non sta stiamo andando al contrario vedi adesso sta arrivando sta arrivando la ruta stiamo andando bene fammela mettere un pochettino più verso da questo lo so che non si capisce che cacchio di direzione stiamo andando bisogna mettere una bandierola se la riesci a farla eh ma lì ci vuole ci vogliono le corde eh se faccio la bandierola poi le faccio ridere eh sei di legno ma che cazzo sei una legna che puoi uno stefino eh sti stronzi allora adesso io mi metto a piantare qui le cose e come arrivano dei gabbiani sono cazzi vostri eh oh si ma questo c'ha sempre sete e fame meno male che la partita è facile eh ma se era difficile questo non poteva mangiare uno squalo eh se giocava difficile lo squalo ci faccio come niente come come un morso c'è proprio finita la legna no sta arrivando sta arrivando ehi ha già sciolto qui le altre cose è veloce la fornaccia eh un altro scatolo che sta qui un regalo? una legna è tutta la legna dello scatolo dove la metto la bandierola? eh ti avvicino la bandiera così uno capisce dove è ok poi adesso ok l'ho messo e infatti dove sta andando? si hai perso e infatti lì stava puntando la cosa a legna come stiamo messi sette di lei mamma mia però per fare un tettuccio qui ce ne vogliono quattro eh cazzo la ruola dobbiamo cercare di andare in un'isola eh ma l'isola non si trova corte corte si ma il gioco ce lo fa apposta che ci fa girare intorno cioè dovevamo prendere il lama per fare lo zain più grosso eeeh eh vabbè lo farei ma non è per mo' come io il bacco è nell'isola mia diciamo nella partita mia c'ho già lo zain per andare ancora nella prima che purtroppo gira attorno non ci riesco da ricordare no cioè vabbè lo che altra puttana cioè se fai il zain che si avvicina e poi dopo un po' si allontano nella stessa direzione beh e al lato sto giù se sto male ogni due se quanti si ingazza si ingazza ah ora non viene il gabbiano eh ma che lo posso freddare come niente non viene mi serve un bolt perchè mi si sta per rompere il retino e non fa, fa quello normale si quello normale lentissimo oh e boh tu vedi quanto ferro che abbiamo scusa ma tutto il ferro che abbiamo raccolto dove è finito fatti i cardini ah beh comunque il ferro c'è si trova subito ok i rottami eh non c'è problema c'ho 11 di legno uffa che palle quando c'è l'alta marea qui che cos'è che fa eh si era bloccato e stava passando tutta la legna tutta la cosa che servivano che cacchio prendilo lo vedo lo vedo lo vedi il gabbiano stronzo ma frega tutto due ma ho due gabbiani vai carne che da un gabbiano prende solo una coscia il petto la tracoscia la testa che poteva molto iniziare come esca oh cacchio le mette oh che ti fai da me vedi un'isola eh dove ah pure io ho vista pure io eh cavolo che stiamo andando controcorrente se andiamo su quell'isola pila di fogli ah venite gabbiani ah ah ok un'altra isola ho visto quella che hai visto tu ok allora andiamo lì speriamo di andarci più velocemente così ma che cazzo è onda di merda ma va un bel bari squalo va vai vai tu vai quel bastardo va stop aggiustalo che palle ci fa sprecare la legna per aggiustare sto porco se vabbè sta cazzo di andato di altimari io vado io a quel barico da la morte che è di che è di vado dove sta ciao vabbè sto sto infame dai dietro viva se questo mangi sotto questo è so da più di c ala morta cagli un parco vediamo che cosa è vi non ci non ci non ci vediamo Grazie a tutti.